La provincia di Padova ha un nuovo comune, il referendum sancisce la nascita di Santa Caterina d'Este, frutto della fusione tra carceri e Vighizzolo d'Este. I cittadini di questi due comuni hanno votato tra domenica e lunedì promuovendo il progetto di istituzione del nuovo comune da 2360 abitanti. La fusione è passata con il 62% dei voti favorevoli. Soddisfatti i sindaci dei due ormai ex comuni, Ilenia Bellucco e Tiberio Businaro. Con questa amministrazione di Vighizzolo siamo partiti due anni fa e oggi mettersi insieme per sfruttare anche le opportunità delle risorse maggiori, risorse umane, risorse finanziarie. I piccoli enti stanno soffrendo moltissimo e ci sono anche dei tagli annunciati anche nei prossimi mesi per i comuni e gli enti locali e quindi mettersi insieme vuol dire avere maggiori energie. Ora c'è un iter burocratico da seguire. I gestionali, ad esempio l'anagrafe, tutti i gestionali verranno preparati già per le prossime settimane e poi ci sarà uno statuto provvisorio per far funzionare l'ente. Poi a gennaio arriverà, molto probabilmente a gennaio arriverà dopo l'indizione della legge regionale indizione del nuovo comune, arriverà il commissario. Il commissario inizierà a gestire il bilancio con l'affiancamento dei due sindaci che coaudivano il commissario per ridigere il nuovo bilancio. Fusione, ma i due comuni manterranno la loro identità. La propria identità ci sarà sempre. Saranno due località, Carcere e Viglizzolo, continueranno ad esserci non solo nei nostri cuori ma anche fisicamente. Sotto aspetto amministrativo però ci sarà questo nuovo ente, Santa Caterina d'Este, che è il fiume che attraversa i due comuni. E quindi adesso c'è tutto un lavoro, una procedura per arrivare a ottimizzare e a far funzionare il nuovo ente. Grazie a tutti.